1019 Putin i paesi della Nato cercano di espandere lo scontro militare e tutto ciò sta accadendo sullo sfondo della distruzione del sistema di controllo dell'armamento. Questo è stato dichiarato dal presidente della Federazione Russa. Vladimir Putin in un video messaggio in occasione della conferenza sulla sicurezza internazionale. La promozione delle cosiddette strategie indipendenti. In effetti è mirata a creare politico-militari politici associazioni controllate da Washington.